Sul mercato del mondo del lavoro erano dati positivi, sia per la non precedente che per quello in corso? Sì, dati positivi per il 2015 e dati moderatamente positivi per il 2016. Questo anche perché con la riorganizzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro abbiamo fatto un lavoro di sistema sul territorio, cercando di lavorare insieme alle imprese, di raccogliere le vacancy, di programmare insieme la formazione. È stato un lavoro importante che continuiamo a fare sul territorio con una grande attenzione anche per quanto riguarda le persone più fragili e dovremo e dobbiamo ancora insistere per quanto riguarda l'occupazione giovanile, che in questo momento è il tema. Quindi attenzione alla formazione perché sappiamo che una formazione di alta qualità è sempre un elemento importante per quanto riguarda la possibilità di occupazione delle persone e ancora più rete con tutti gli altri soggetti del territorio per arrivare ad un'occupazione di qualità sostenibile che permetta a tutte le persone che hanno perso il lavoro di avere buone possibilità di ricollocarsi e riqualificarsi. Quali sono le tendenze che ammargano da questa indagine sul mercato del lavoro? Il 2015 è stato un anno positivo. È aumentata l'occupazione, soprattutto quella dipendente. Sono aumentate le ore lavorate, è diminuita la disoccupazione e anche i tassi che normalmente vanno considerati per dare un giudizio sull'andamento del mercato del lavoro sono andati nella direzione attesa. Il 2016 ha presentato a tutto il primo semestre una prosecuzione di questi andamenti positivi. Nel terzo trimestre si assiste a una flessione tanto negli stock quanto nei dati di flusso ma noi contiamo che questo grande aumento dei contratti a tempo indeterminato che è avvenuto nei mesi precedenti si trascini e nel quarto trimestre non si registri quella flessione caratteristica di chiusura dei contratti degli anni precedenti.